Questa è la mamma. È successo una sera mentre eravamo in visita alla famiglia di mio marito. La mia nipotina di 5 anni indicò improvvisamente un'immagine terrificante nel libro di fiabe che le stavo leggendo.Non è possibile. Mi sono precipitata in soffitta, dove ho trovato mia cognata in uno stato irriconoscibile. Sembrava che non respirasse e io ero così spaventata che non riuscivo a smettere di tremare. Sono sicura che mia nipote stava cercando di dirmi qualcosa. Non lo perdonerò.Sopprimendo la rabbia che mi saliva dentro, cominciai a pianificare la mia vendetta. Io e mio marito Tony, che abbiamo la stessa età, ci siamo sposati due anni fa, quando avevamo 28 anni.Nonostante il mio lavoro impegnativo, Tony è un uomo meraviglioso che prende l'iniziativa di occuparsi delle faccende domestiche al posto mio. Voglio sostenerla, Kate, perché lavora per aiutare chi ha bisogno. Gli sono stata molto grata per questo punto a causa delle nostre vite impegnate. Non avevamo ancora figli, anche se entrambi amiamo i bambini e speriamo di averne presto uno. Speravamo nel momento giusto, ma sembrava che non arrivasse mai punto prendiamoci il nostro tempo e non affrettiamoci. Sì, ma non posso fare a meno di desiderare una bambina carina come Rachel. Sono d'accordo con lei. Rachel è la figlia del fratello di Tony, la nostra adorabile nipotina di 5 anni.Kevin, il fratello di Tony, aveva rilevato la fattoria di famiglia e viveva con sua moglie Beth. Rachel e i suoi genitori in una città rurale. Lontano da noi punto potevamo venire a trovarlo per aiutare nella fattoria solo durante le vacanze di Pasqua e rimanere per qualche giorno durante l'estate e le vacanze di Natale. La famiglia di Kevin era impegnata a gestire la fattoria e a coordinare i raccolti con le aziende agricole vicine, quindi le nostre visite erano abbastanza lunghe. Kevin e sua moglie erano cordiali e i suoi genitori erano gentili, quindi non vedevo l'ora di tornare.Soprattutto. Rachel aspettava con ansia le nostre visite.Io e Beth eravamo vicine di età e andavamo d'accordo. Essendo figlia unica, era come una vera sorella per me e ci tenevamo costantemente in contatto. Tony, guarda. Beth ha mandato un'altra foto di Rachel. È così carina? Oh, davvero? Mandala anche a me. Abbiamo sempre condiviso questi momenti. Ogni volta che facevamo delle videochiamate, io e Tony facevamo a gara per avere il telefono. Ma a un certo punto Beth smise di rispondere ai miei messaggi.Preoccupata, sono corsa da Tony non appena è tornato a casa dal lavoro. Beth non risponde. Pensi che sia successo qualcosa? Forse è solo occupata. È la stagione del raccolto, dopo tutto. Lo spero.È la prima volta che succede, quindi non posso fare a meno di preoccuparmi. Anche se Tony all'inizio non ci ha pensato molto. Ha subito chiamato suo fratello quando ha visto la mia faccia preoccupata.Kevin ci ha detto che Beth era malata e costretta a letto. Preoccupata? Ho chiesto a Tony di farmi parlare direttamente con Kevin. Beth sta bene? Quali sono i suoi sintomi? Lo bombardai di domande per la sua preoccupazione.Kevin sospirò profondamente all'altro capo del filo. Sai, non è il caso di ficcare il naso nelle famiglie degli altri. Lascia perdere. Non rispose alle mie domande e chiuse bruscamente la telefonata.Punto cosa è successo a Kevin? Fui scioccato dal suo atteggiamento insolitamente schietto. Sentendo che forse avevo esagerato, ho riflettuto sul mio approccio.Tuttavia, non riuscivo a smettere di preoccuparmi per Beth e pensai di andare a trovarli. Ma la mia agenda di lavoro era piena e non potevo fare il viaggio.Era la fine di luglio e speravo di vederla bene quando saremmo andati a trovarla durante l'estate. Qualche settimana dopo, in agosto, Tony e io ci recammo a casa della sua famiglia.Non avendo ricevuto alcun contatto da Beth, temevamo che le sue condizioni fossero molto gravi.Kevin, dove è Beth? Non è qui in questo momento.Chiedendoci cosa stesse succedendo.La madre di Tony ci informò che Beth era stata ricoverata in ospedale. Come previsto, la situazione era grave e sia io che mio marito eravamo scioccati.Mentre siamo qui, vorremmo andare a trovare Beth in ospedale. Purtroppo, sono i familiari più stretti possono farle visita. Sembra una cosa piuttosto seria. Stavo per esprimere la mia preoccupazione. Ma ho pensato che non fosse appropriato. Così ho ingogliato le parole.Un'altra preoccupazione che mi assillava era mia nipote, Rachel. Di solito era una ragazza allegra e loquace. Era insolitamente silenziosa. Probabilmente si sentiva in ansia perché sua madre non c'era.Punto ho pensato a come tirarla su di morale e renderle piacevole il soggiorno.Mentre sistemavo i bagagli nella stanza. Rachel mi si avvicinò silenziosamente. Kate, M, cosa c'è? Vuoi parlare? Sembrava nervosa e agitata. Forse perché era passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci eravamo visti. Mi fissò come se volesse dire qualcosa. Ma proprio mentre apriva la bocca entrò rapidamente Kevin. Rachel, Kate e Tony sono stanchi. Andate a giocare laggiù. Stiamo bene? Davvero? Ma Kevin ha insistito. No, scusate se vi ho disturbato. Ha portato via Rachel con la forza. Punto anche se siamo una famiglia e non volevo che si sentisse così obbligato, forse era il suo modo di essere premuroso. Questo è successo diverse volte, impedendomi di avere una conversazione adeguata con Rachel. Punto anche i miei suoceri sembravano a disagio, a differenza del loro solito. Continuavano ad accennare al fatto che saremmo dovuti andare via presto, rendendo l'atmosfera imbarazzante. Punto c'era qualcosa di strano e cominciai a sospettare del loro comportamento. Anche Tony se ne accorse. È una sensazione diversa dal solito. Dopo cena, mentre ci rilassavamo in salotto, Rachel si avvicinò di nuovo a me sgambettando. Voglio andare a letto con Kate. Ma ancora una volta Kevin la seguì rapidamente e la prese in braccio. Ti ho detto di non disturbare. Voglio solo che mi legga una storia. Poi dormirò. Sembrava che stesse per piangere mentre veniva portata via. Kevin, va tutto bene. Rachel, andiamo in camera tua. Quale libro vuoi leggere? Kevin, con un'aria un po' insoddisfatta, accettò con riluttanza dopo che lo rassicurai che sarebbe stato solo per poco tempo. Va bene. Se insisti? Grazie. Il volto di Rachel si illuminò e mi condusse con entusiasmo nella sua stanza. Questo. Leggi questo. Cominciai a leggere il libro che Rachel aveva scelto e all'improvviso mi indicò un'immagine. Questa è la mamma. Era una bellissima principessa e mi commossi al pensiero che vedesse sua madre in questo modo. La tua mamma è bellissima, vero? No, non è così. Che cosa? Sembrava che volesse dire di più, ma tacque, lasciandomi perplessa. Dopo aver finito il libro, l'ho accarezzata dolcemente mentre era a letto. Rachel sussurrò tristemente che le mancava la sua mamma e presto si addormentò. Quando tornai in soggiorno, Kevin e i suoi genitori mi stavano aspettando. Tate, Rachel ha detto qualcosa? Niente di particolare. Si è addormentata subito dopo che le ho letto qualcosa. Kevin sembrò sollevato dalle mie parole. Poi sua madre gli sussurrò qualcosa e si voltò verso di me con un sorriso. Grazie. Ora che il bambino dorme. È il momento di divertirsi per gli adulti. Con i drink che scorrevano a fiumi. Tony, Kevin e i suoi genitori si ritrovarono presto in uno stato d'animo festoso. Con il passare della notte, tutti caddero in un sonno profondo. Per controllare Rachel, andai in camera sua e la trovai profondamente addormentata. Con un viso adorabilmente tranquillo. La guardai per un po', provando un senso di calma. Ma non riuscivo a togliermi di dosso la sensazione del suo comportamento prima di dormire. Presi il libro di fiabe che avevamo letto e sfogliai le pagine finché non vidi l'immagine che mi aveva indicato prima. Improvvisamente mi resi conto di quanto fosse terrificante. Non è possibile. Non può essere. Ma devo esserne sicura. Prima di rendermeni conto. Stavo correndo su per le scale fino alla soffitta. Quando apri la porta, rimasi senza parole. C'era Beth, che mi avevano detto essere stata ricoverata in ospedale, distesa lie maciata e irriconoscibile. Beth. Mi precipitai da lei, scotendola e chiamandola per nome, ma non rispose. Cosa dovevo fare? Tremavo di paura. Non ero sicura che respirasse. Ho svegliato in fretta e in silenzio mio marito, che stava dormendo. Tony inizialmente rimase scioccato, ma riuscì a portarla in macchina e a portarla in ospedale senza avvertire la famiglia. All'ospedale, il medico borbottò, speriamo che ce la faccia. Sentendo questo, non riuscivo a smettere di tremare di rabbia e tristezza. Non c'è dubbio che Kevin e i suoi genitori siano coinvolti nelle condizioni di Beth. Il comportamento ansioso tenuto dal nostro arrivo aveva ora un senso. Decisi di raccogliere le prove per evitare che potessero sfuggire alle loro responsabilità. Appunto la mattina dopo. Vorrei portare Rachel al nuovo centro commerciale. Che ne dite di venire tutti insieme? Propose Tony durante la colazione. Rachel accettò di buon grado, ma gli altri erano meno entusiasti. . Kevin e i suoi genitori si scambiarono uno sguardo e sembrarono comunicare in silenzio. Vuoi du porti Rachel? Noi resteremo. Sì. Per favore, portatela. È chiaro che non erano interessati ad andare. Ma Tony ha insistito. Non ha senso se non ci va tutta la famiglia. Con riluttanza, accettarono di venire. Una volta saliti tutti in macchina, tirai fuori il telefono dalla tasca. Oh, scusate. Ho una chiamata di lavoro. Vai pure. Io vi raggiungo. Cosa? Ignorando la loro sorpresa, Tony mise la testa fuori dal finestrino. Ok. Chiuse le portiere dell'auto e partì lentamente. Dall'interno dell'auto, potevo vedere Kevin e i suoi genitori che cercavano disperatamente di dire qualcosa a Tony, probabilmente esortandolo a tornare indietro. Ma Tony continuò a guidare finché l'auto non fu fuori dalla vista. Grazie a Tony. Iniziai a perlustrare la casa per trovare prove contro di loro. Quello che scoprì mi fece infuriare. Questo è imperdonabile. Decisi di chiedere giustizia per Beth. La sera Tony e la famiglia tornarono. Rachel si era addormentata e veniva portata in braccio da Tony. La metto a letto. Sono anche stanco per aver guidato. Quindi mi riposerò un po'. Tony portò Rachel nella sua stanza. Mentre li guardavo, si avvicinò mia suocera. Kate, perché non sei venuta? Ti stavamo aspettando. Mi dispiace. Sono stata presa dal lavoro. Sembra una cosa difficile. È successo qualcosa di insolito? Sei stata in salotto per tutto il tempo? Continuava a chiedermi dove fossi e cosa avessi fatto dopo che se ne erano andati. Nel frattempo, Kevin andò a controllare la soffitta. Poco dopo, tornò di corsa dai suoi genitori. Mamma. Papà. Non va bene. Non qui. Parliamo laggiù. Intuendo che si trattava di qualcosa di serio, si allontanarono da me per parlare. Di tanto in tanto guardavano verso di me mentre sussurravano. Incuriosito, mi sono avvicinato. Che succede? Kate, non sei stata in soffitta. Non è vero, chiese a bassa voce, con le sopracciglia aggrottate. La guardai direttamente. Non oggi. Ci sono stata ieri. È un problema? Provocandoli intenzionalmente, vidi le loro reazioni. Cosa stavi facendo lassù? Si è girato di scatto, cambiando il suo atteggiamento. Dove hai portato Beth? Di cosa sta parlando? L'abbiamo chiusa in soffitta. Ma è sparita. L'avete aiutata a scappare. Kevin, furioso, mi ha aggredito. Dovete saperlo. Dicci dov'è. Le loro espressioni ansiose erano evidenti. L'ho portata in ospedale. Ma era troppo tardi. L'hai lasciata in quello stato orribile. Kevin sorrise crudelmente. Finalmente se n'è andata per sempre. Che cosa avete in mente? Non sono affari vostri. Vero? Mamma? Sì, Kate. Di cosa state parlando? Beth è stata ricoverata in ospedale. Le loro palesi bugie erano esasperanti. Sospirai profondamente e li fulminai con lo sguardo. E questo? Mostrai loro le foto che avevo scattato a Beth in soffitta. Incatenata e distesa li punto vedendo le foto. Kevin e i suoi genitori non poterono negare e distolsero lo sguardo. Sei stato tu a farle questo? Kevin sospirò e si grattò la testa. È andata in soffitta da sola. La sua ridicola scusa fu accolta dal mio sorriso incredulo punto pensavano che ci avrei creduto. Decisi di fare il passo successivo punto è questo il motivo. Vero? Feci scivolare un documento sul tavolo. Kevin lo prese e impallidì. Come l'avete ottenuto? Abbiamo cercato ovunque. Era un documento che registrava alcune transazioni finanziarie punto e nella calligrafia di mia cognata c'era scritto. C'è qualcosa che non va nel flusso. Dove è finita questa discrepanza? L'ho trovato nascosto nella libreria di Rachel durante la mia ricerca. Mi permetta una domanda diversa. Questa è la prova della sua frode, giusto? Kevin accartocciò il documento e lo portò in cucina. Accese il fornello e lo bruciò. Peccato. Ora non ci sono prove. Si è preso gioco di me. Agitando le mani con disprezzo punto poi è tornato. Si è appoggiato al tavolo con i gomiti e mi ha guardato con un'espressione compiaciuta. Come se volesse dire. Sono stato io. Beth ha scoperto il nostro piano. Quindi abbiamo dovuto metterla a tacere punto sentendosi sicuro senza prove. Kevin si vantò della loro truffa. Avevano acquistato colture a basso costo e le avevano vendute a un prezzo più alto, intascando la differenza. Quando Beth lo scoprì, li affrontò punto una volta saputo, Beth non poteva ignorare la cosa. Le abbiamo detto di tacere, ma non ci ha dato retta. Quindi l'avete chiusa in soffitta per farla tacere? Sono rimasta scioccata dalle loro azioni e dai loro ragionamenti punto mentre ascoltavo, diffamavano Beth, sostenendo di essere giustificati. Ero sconvolta punto la suocera fece segno a Kevin punto ma perquisire la casa è piuttosto scortese. Le ragazze di città non hanno buone maniere. Visto che lo sai, vai anche tu in soffitta. Mi si avventò contro. Ma Tony fece irruzione dalla porta. Kevin. Si precipitò al mio fianco. Non interferire, stiamo proteggendo il nostro sostentamento. Sei nato e cresciuto qui. Quindi dovresti capire punto Kevin, che cerca di farmi qualcosa con la forza, e mio marito, che cerca disperatamente di proteggermi. Tony afferrò Kevin per il colletto. Basta. In realtà, avevo già informato Tony di tutto quello che avevo scoperto via messaggio punto così, dopo il loro ritorno, ha fatto finta di riposare finché i tre non hanno mostrato la loro vera natura. È troppo tardi. Ci stiamo già preparando a farvi causa. Cosa? Alle mie parole, Kevin, che era alle prese con Tony, allentò la presa. Il documento che avete appena visto era una copia punto l'originale è conservato al sicuro e ho anche dei backup digitali, quindi è inutile distruggerlo. Piccolo furbo. Sei uno che parla punto o, e guarda queste. Gli misi davanti diverse foto. Mostravano Kevin e i suoi genitori che se la spassavano in ristoranti e alberghi costosi. Cosa? Questi sono solo pranzi o gite di famiglia, giusto? Certo, se fosse solo questo punto ma che dire di questo? Gli feci passare sotto il naso un altro foglio punto ricevute? Sì. E questo è un problema, no? Le ricevute erano etichettate come spese di rappresentanza aziendale costruite per la società agricola che avevano formato con gli agricoltori vicini. Beth ha trovato queste. È un chiaro abuso di fondi. Dannazione, Kevin sbatté il pugno sul tavolo, visibilmente arrabbiato punto provai un'ondata di rabbia pensando ai sentimenti di Tony, consapevole dell'inganno del fratello. Dissi loro che gli agricoltori vicini erano già al corrente e che presto avremmo avuto una discussione formale. Sono stato incaricato di occuparmene punto non avete alcuna possibilità. Sorrisi e mostrai il mio tesserino da avvocato. La mia professione non era un segreto per la famiglia. E probabilmente era per questo che avevano rinchiuso Beth, temendo che potesse dirmelo punto Kate, ti prego, non farlo. Siamo una famiglia? Sì. Manteniamo un buon rapporto. Anche mio suocero mi ha supplicato. Kate, ti prego. Ma non potevo ignorare le loro malefatte. Mi chiesero perché ero andata in soffitta. Me lo disse Rachel. Quel ragazzo punto le ho detto di non dire nulla. Non ha detto nulla di diretto. Mi ha solo dato un suggerimento punto di quali sciocchezze sta parlando. Devono aver minacciato Rachel, dicendole che non avrebbe più rivisto sua madre se avesse parlato. Rachel ha mantenuto la promessa. Ma voleva aiutare sua madre. Utilizzando un libro di fiabe, Rachel aveva cercato di mettermi in guardia punto l'immagine che aveva indicato raffigurava una principessa intrappolata da un demone in una soffitta. Ammirai la sua intelligenza per una bambina di cinque anni. Glielo spiegai e rimasero in silenzio. Poi mostrai loro un video sul mio telefono punto era Beth, che testimoniava dal suo letto d'ospedale. Pensavo fosse morta. Erano sbalorditi. Beth era gravemente malata quando l'abbiamo portata in ospedale. Ma i medici l'hanno salvata. Mi raccontò tutto e chiese giustizia punto non le abbiamo dato da mangiare. Come ha fatto a sopravvivere? Suocero e suocera hanno fatto ecco alla sua incredulità. Rachel ha avuto un ruolo importante. Ancora quella monella. Rachel aveva portato di nascosto cibo e acqua alla madre punto la sua compassione e la sua intelligenza erano notevoli. Non ne avevo idea. Non avevano parole punto guardate il resto del video. In esso, Beth ha dichiarato con fermezza la sua intenzione di sporgere denuncia e di divorziare da Kevin. Kate, tu sei un avvocato. Non potete trovare una soluzione? Siamo una famiglia. Siamo una famiglia. Ti prego, di a Beth che farci causa è inutile punto le loro suppliche erano patetiche. Tony sembrava affranto. Mi occuperò anche di questo caso. Preparatevi. Quando lo dissi e li spinsi via, borbottarono, non se ne parla, e riattaccarono la testa punto in seguito. La famiglia fu citata in giudizio dagli agricoltori vicini. Accettarono di rimborsare in un'unica soluzione la differenza dei ricavi delle vendite. Beth li denunciò per il suo trattamento e loro dovettero affrontare le conseguenze legali punto dovettero pagare 50.000 dollari di danni e spese mediche e Beth ottenne il divorzio. Naturalmente, ottenne la custodia di Rachel e il mantenimento di 80.000 dollari. Kevin e i suoi genitori vendettero le loro proprietà per pagare, perdendo tutto punto sono venuti da noi, implorando aiuto. Stiamo tagliando i ponti. Non contattateci più. Se ne andarono sconsolati e da allora non abbiamo più avuto loro notizie. Beth e Rachel si sono trasferite a casa dei genitori di lei e stanno bene punto le vediamo spesso e Rachel è una gioia per noi punto giocare con il bambino quando nasce. Ho scoperto di essere incinta dopo la prova, e Rachel è entusiasta. Ho intenzione di lavorare fino alla nascita, continuando il mio ruolo di avvocato, aiutando chi ha bisogno. Com'era la storia di oggi, iscrivetevi al nostro canale. Ci vediamo nel prossimo video.